Ciao creatura io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di G-V-A-S-M-R Questa sera andremo a unboxare, ad aprire queste cinque Blind Bag della serie Creepy Cute Animal sono paper squishy, come puoi leggere qui Creepy Cute Animal Paper Squish Blind Bag Creepy Cute Animal Paper Squish Blind Bag Andiamo a vedere il packaging Creepy Cute Animal Paper Squish Blind Bag dietro c'è una specie di checklist dove ci illustra che il blu sarà un paper squishy comune il rosso un paper squishy raro il verde un paper squishy ultra raro e il giallo e il giallo o sforescente evidenziatore un paper squishy leggendario chissà cosa troveremo non ne ho la minima idea sì 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 lo so che sono pepe squishy i tweet lo sarebbero fatti da me ma reggetemi il gioco facciamo vinta che sia per te per te così non si sa che cosa ci sia dentro è una sorpresa sono blind bag in più in più sono mescolate quindi anche al tatto non riesco a capire quale animale quale creatura c'è all'interno sono tutti più o meno uguali sì sono tutti uguali le confezioni quindi non lo so ne pesco uno a caso prenderò questo qui al centro da aprire per prima prima che vado ad aprire ti ricordo di iscriverti al mio canale mettere un like al video e condividerlo se vuoi che qualche tua amica veda qualche altra creatura si rilassi con te la visione di questo video ok dato che è il primo video dico che questa tipologia di video non è una mia idea l'ho vista su tiktok e mi è piaciuto un sacco loro non lo fanno come video ASMR fanno questi video così per puro intrattenimento però io li trovo estremamente rilassanti perché c'è il suono della carta e di solito le ragazzine che fanno questi video hanno un tono di voce pagato e mi rilassano tantissimo allora ho deciso di prendere spunto da quei video e crearne di ASMR e ok e ok questi pepe squishy li ho fatti io a mano disegnati a mano e diciamo chiusi con lo scotch a mano quindi non sono perfetti però spero che comunque questa nuova tipologia di video possa piacerti e consigliami suggeriscimi delle altre serie di pepe squishy che ti piacerebbe che io rilassassi e portassi sul canale come unboxing intanto come prima serie ho deciso di portare la creepy cute per animal perché mi piaceva l'idea perché di solito fanno solo cose bucciose e io volevo portare qualcosa di originale e inerente al mio canale ok ah e queste serie qui di pepe squishy se vi interessano potrei pensare di regalarle a uno di voi ognuno una serie diversa tanto sono di carta e sono molto leggere quindi fatemi sapere quello che pensate al riguardo nei commenti ok basta chiacchiere andiamo all'apertura subito ok allora prima che cadesse tutto abbiamo già trovato abbiamo già trovato la leggendaria siamo troppo forti ed è sempre giallo normale invece si vede la differenza di giallo questo è un giallo normale questo è un giallo evidenziatore e ed è leggendario quindi siamo stati già super fortunati giuro che io tastando non si sente nulla quindi andiamo a vedere che cos'è però lo squisci paper squisci creepy cute animal leggendario wow il teschio del gatto con la luna bellissimo andiamo a sentire un po' squishato così così e è leggendario questo si vede bellissimo, mi piace un sacco cosa ne pensi? ok, andiamo a aprirne un altro ok, io terrei questo qui tipo come checklist ok andiamo in pescatuna a caso andiamo a vedere che cosa contiene abbiamo trovato una rara vediamo cos'è sembra la bandiera del Giappone l'orsetto che bello questa è una rara sono molto piccoli quindi fanno poco suono squisciuso quindi magari la prossima volta lì vorrò un po' più grandi poi c'è quest'altra blind bag andiamo a vedere che cosa contiene qui andiamo a vedere che cosa un altro 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 andiamo a aprire il quarto un altro abbiamo trovato una combogna un altro andiamo a vedere che cosa è un altro un altro super cute questo è super soft si più sono grandi più sono scusciosi un altro un altro un altro un altro un altro un altro duro questo è molto più soffice perché è più grande quindi può contenere più cotone poi la prossima volta voglio cambiare anche il tipo di carta ok andiamo ad aprire l'ultima blind bag cosa avremmo trovato come ultimo blind bag vediamo insieme l'ultra rara ok andiamo a vedere qual è l'ultra rara il creepy rabbit io l'avrei messo dai leggendari è super soft bellissimo io so già qual è il mio preferito comunque adesso li mettiamo tutti qua e ce li guardiamo allora abbiamo trovato questo leggendario poi questo è raro questo è raro questo era comune se non sbaglio e questo è che è sparito dall'inquadratura allora lo facciamo così leggendario raro raro comune e ultra raro sono molto inquadrati però ok allora qual è stato il tuo preferito? il teschio leggendario il teschio leggendario il teschio di gatto e il gatto che è comune è sì comune leggendario ha senso il l'orsetto il panda oppure il coniglio il mio preferito rollo di tamburi è stato il coniglietto anche se non è un leggendario ma è un'ultra raro è troppo bello è troppo bello poi è anche più forse il più squishy su di tutti perché probabilmente è il più grande bellissimo comunque te li mostro tutti da vicino allora coniglietto il panda il panda che è verde acqua tipo un tiffany no un verde acqua e il lilla con gli occhi gialli e bottone e tipo una specie di rosso pastello poi c'è l'orsetto che è azzurro e arancione in suo moto e l'altro sembra un orsetto pirata poi il gattino è verde e rosso coincidenza io non credo l'occhio e l'occhio a bottone ha sempre tutti e due un rosso e uno azzurro e poi l'ultimo leggendario che è il deschio del gatto molto esoterico con questa luna argentata e dorata è un verde tipo evidenziatore spero che questo video ti abbia fatto rilassare e ti sia piaciuto e io ti auguro buonanotte un relax ciao creatura